Arrivederci. Grazie colonnello e come avete visto in diretta c'erano le immagini in apertura del nostro programma, le immagini di Piazza Farnese. Perché vogliamo andare oggi in Piazza Farnese in diretta? Simbolicamente consegneranno le chiavi della loro attività. Artigiani, commercianti, piccoli e medi imprenditori indignati sono il polso della crisi e hanno deciso di far sentire la loro voce. Noi ci colleghiamo con Piazza Farnese. Sì, Mariella, buongiorno. Qui non tireranno giù solamente la sala cinesca, ma cercheranno di aprire anche i loro cuori e i loro voci alla dimensione della crisi per raccontare alla città cosa non sta andando, anche da un punto di vista produttivo. Che questi siano indignati particolari lo dimostra l'abito di Andrea Genovese, cioè la giacca e cravatta, perché stiamo parlando di imprenditori. È però un imprenditore fermo come il trasporto. Certo, buongiorno a tutti. Il nostro grande reale problema per quanto riguarda le aziende di trasporto sono i crediti vantati dalle pubbliche amministrazioni. Che non stanno pagando, i tempi si allungano sempre di più. Certo, è ovvio. I tempi si allungano e le società si trovano con difficoltà per quanto riguarda i pagamenti agli enti locali. Detto ciò, questo implica il mancato rilascio del documento della regolarità contributiva importantissimo per accedere ai pagamenti della pubblica amministrazione. Per voi è difficile anche il rapporto con le banche, immagino. È ovvio, tutta la parte finanziaria è sospesa dal momento che i crediti sono fermi da parte della pubblica amministrazione. Come sta inquadrando Gianluca? Il problema è poi un problema che si sconta, anche perché guardate i prezzi delle materie prime, come sono cresciuti e come è cresciuto l'aumento del costo delle assicurazioni. La pubblica amministrazione è un problema, ed è un problema grosso, soprattutto di chi come lei, 90% della sua attività... 90% della sua attività è verso la pubblica amministrazione. E quindi i ritardi li sentono tutti sulla sua pella? Assolutamente, assolutamente, li sentiamo tutti sulla nostra pelle, ma soprattutto il problema è che il ritardo ha una conseguenza, conseguenza non sviluppo, conseguenza non investimenti, uguale, conseguenza non assunzione. Vogliamo assumere i giovani, magari a frotte, ma c'è deve essere il lavoro? Ma a fronte del lavoro c'è deve essere una sana gestione aziendale data di che cosa? La certezza del pagamento. Senta, lei mi diceva prima che qua non è solamente una piazza di protesta, ma anche una piazza di proposta. Mi tiri fuori due idee? Ma è semplice, ribaltiamo il problema. Benissimo, tu hai problemi a pagarmi, perché il tuo problema lo scaridi addosso a me? Prendiamo la banca, con tutte le verifiche del caso, giustamente porto la mia fattura in banca, la banca verifica il tutto, penalizzando paurosamente chi dovesse commettere degli illeciti e a quel punto la banca mi paga e tu, che ritardi il pagamento, ti fai onere gli oneri finanziari. L'altra proposta in breve? L'altra proposta in breve è quella di sviluppare l'attività riducendo notevolmente l'attività burocratica, perché siamo sommersi, soffocati dalla burocrazia. E diceva Giancarlo De Calisti che sostanzialmente un piccolo artigiano deve realizzare la stessa burocrazia dalla Fiat. Questo vale anche per il suo settore. Francesco Lopez, della meccanica. Assolutamente sì, il problema vero è che noi viviamo una quotidianità fatta di difficoltà, fatta di lotte con le banche, come diceva adesso il collega, cioè non riusciamo più a sopravvivere. Il suo settore dovrebbe essere un settore internazionale, l'aiutano nell'esportare la sua produzione? No, assolutamente no. Noi non siamo la Fiat, non siamo la Fimmeccanica, cioè non siamo le grandi imprese, siamo le piccole imprese e questo ci penalizza moltissimo. Non abbiamo strumenti per poter andare all'estero. Savo è il fatto che noi tra imprenditori non ci mettiamo in rete e cerchiamo di andare tutti insieme. Questo ci aiuterebbe molto a diminuire le spese di gestione di tutta l'operazione. E allora, piccole gambe che hanno tutta l'intenzione di voler crescere, ma oggi almeno in Piazza Farnese vogliono battere i piedi per farsi sentire il resto della città. A dopo, allora, in diretta a Piazza Farnese. State guardando non tanto le voci della crisi, quanto le chiavi della crisi, le chiavi che questi imprenditori vogliono riconsegnare alla città, perché così la situazione non può andare. Qui ho una serie di imprenditori, di lavoratori soprattutto, nei settori tradizionali dell'artigianato, Farnando Valentini che è idraulico. Ormai non fate più impianti nuovi, mi pare, solo manutenzione. Buongiorno a tutti, innanzitutto. Io sono in pensione e due anni fa ho dato la licenza, non so se ho fatto bene o male a mio figlio. Purtroppo l'artigianato è una cosa tremenda e bisognerebbe viverla e un minuto non basterebbe. Una volta si lavorava quando andava all'idraulico con l'apprendista, adesso c'è il commercialista presso. Invece da avere i ferici ha tutte le cartelle. Lei ha detto che ha ceduto la sua attività al suo figlio, ma ci tolga una curiosità, lei di pensione quanto prende? Io dopo una vita di lavoro prendo 730 e 100 me le levano di tasse. Quindi 630 euro. Se ora dovesse fare la scelta tornando indietro, ricederebbe la sua attività al suo figlio o direbbe al suo figlio fai qualche altra cosa perché magari è un lavoro più garantito? Per la voglia che ho avuto da lavorare, perché a dieci anni ho incominciato, ricomincerei, però adesso non lo farei più, né io né mio figlio né nessuno. E questa è chiaro la sfiducia in questo momento, sfiducia che non so se si applica anche al settore del legno, della falegnameria. Qui con me è il falegname Luciano Peduzzi, mi scusi Peduzzi. Allora Peduzzi, diciamocelo chiaramente, c'è anche un problema di tasse oppure no? Certo che c'è un problema di tasse, c'è un problema di regole. Oggi le regole non vengono rispettate. Oggi l'impresa non si sente tutelata e quindi le regole è dal cittadino che non vengono rispettate. Ma voi siete sempre innocenti, la fattura ha ricevuto le date? Non credo che siamo innocenti, come tutti oggi nei settori ci sono i bravi e il buono e il cattivo. Ovviamente il cattivo anche da parte nostra deve emergere, deve essere sconfitto. Però c'è tanto buono. Il buono è quello che la gente fa lavorare, si fa le sue 10-12 ore al giorno, non viene garantito, se ho un problema fiscale il fisco non garantisce poi un atteggiamento di sviluppo verso l'impresa, ma anzi al contrario porto dei grossi problemi, di conseguenze che non portano poi... Certo, lei dice concretamente, il fisco mi tartassa a tal punto che magari io preferisco restare piccolo, una o due persone piuttosto che allargami e creare occupazione. Io mi sposto a chi ha il settore dei consumi a disposizione, Dino Bartocci che è uno storico panificatore della zona, sentiva questo discorso il suo collega sul fisco, potete immaginare di chiedere qualcosa al nuovo governo su questo? Beh, credo che anche io mi allineo, mi accuoto a tutte le richieste già fatte, sicuramente è il discorso del fisco, ma anche per quanto riguarda la mia categoria, noi sono sei anni che aspettiamo l'approvazione di un regolamento che distingue con chiarezza il pane fresco dal pane precotto e suggerato. Sentite un po' questa distinzione tra pane fresco e pane precotto e congelato, cioè in Italia oggi uno dei problemi può essere anche questo, il che è paradossale, cioè significa che più che fare il pane state, diciamo, inseguite le leggi, regolamenti. Sì, inseguiamo le leggi, regolamenti e oltretutto siamo veramente soffocati da un'infinità di adempimenti che mettono le piccole imprese sullo stesso piano delle grandi aziende e per il proprio per le piccole imprese spesso diventa insostenibile. L'ultima cosa, Bartocci, proprio rapidamente, c'è questa crisi, cioè i consumi anche da lei, anche sui generi di prima necessità, si sono contratti? Sicuramente la media dello scontrino si è ridotta, direi abbastanza. E allora la media dello scontrino è ridotta abbastanza, però cerchiamo di fare e di chiudere poi il nostro collegamento facendo un quadro complessivo della situazione. A dopo, Lazzaro, ed ora andiamo a vedere un po' i giornali in edicola oggi. Da Lazzaro in diretta da Piazza Farnese. E allora completiamo il nostro ragionamento, Mariella, ripartendo dalle tasse e dagli studi di settore e vi do la parola a Luciano Peduzzi. Allora, voi le pagate anche le tasse perché ci sarebbero questi studi di settore? Noi abbiamo sperimentato sulla nostra azienda la legge sul risparmio energetico, abbiamo la grassi incognita che non so se viene rinnovata, ma questa legge ci ha permesso a noi di pagare le tasse perché fatturiamo tutto, perché il cliente è il primo che ne surfuisce, quindi si surfuisce dal 55%, l'IVA viene pagata e lo Stato ci guadagna anche sull'IVA. E certo, il meccanismo è virtuoso perché coinvolge innanzitutto il cittadino che ha tutto l'interesse a chiedere la ricevuta perché poi la scarica. A Lopez invece, con Lopez, lei mi diceva che voi siete come i soldati sulla linea del Piave, state aspettando il nemico ma resistete all'imperterriti. Sì, insomma, questa crisi ormai è evidente e chiara, le prime linee sono cadute. Noi adesso siamo a testare sul Piave, con i nostri valori, con la nostra voglia di fare, con la nostra difficoltà però siamo lì, resistiamo perché ci crediamo, noi crediamo alle nostre imprese, assolutamente. Vedete anche i vostri lavoratori, cercate di non licenziarli possibilmente. Guardi, la manifestazione di oggi è sicuramente un momento d'incontro, ma non sono gli imprenditori o le imprese, siamo noi e i nostri dipendenti. Se le nostre imprese si dicono a carattere familiare è perché, non non perché sono i familiari, ma perché i nostri dipendenti sono i nostri primi familiari. Questa è la verità. Oggi in piazza ci sono tutti, noi e i nostri dipendenti. Il cosiddetto azionariato di futo si potrebbe dire. A proposito di azionariato, ecco qui non avete visto, non ho intervistato né Montezemolo, né della Valle, né la Marcegaglia, però sono il 97% degli imprenditori che lavorano nel Lazio e questa è la vostra forza e anche a volte la vostra debolezza, ma in questo momento soprattutto la vostra forza. È la nostra forza, è il motivo per cui oggi siamo qui. Io penso che la piccola impresa abbia manifestato un grande senso di responsabilità nel firmare il patto per l'Italia. Noi ci siamo ad assumerci le nostre responsabilità. Siamo qui per chiedere responsabilità alle politiche. Il cambiamento sembra le porte, ma bisogna attuare che il cambiamento non sia solo nostro. A Maria Fermanelli chiedo e concludo il ragionamento. Voi avete tre grandi temi sostanzialmente, fisco, burocrazia e pagamenti con la pubblica amministrazione. Dove si deve iniziare a partire a lavorare su questi tre temi? Io penso innanzitutto cambiare, ridurre il cuneo fiscale. È fondamentale restituire un po' di forza alle buste paga dei nostri lavoratori. Io ho un'azienda tutta al femminile, le nostre lavoratrici sono tutte in grande difficoltà. Ci viene chiesto i anticipi sul TFR. Quindi, signora Maria, glielo butto lì. Se si fa questa patrimoniale o se si sposta il prelievo fiscale sugli immobili e lo si toglie dal lavoro, lei è assolutamente d'accordo? Assolutamente sì. Per me è il primo passo. Bisogna partire da lì, spostare dall'interesse, dalla finanza alla produzione. Qui sembra che produrre non abbia più alcun valore. Invece il nostro Paese è fondato sul proprio valore della produzione. Articolo 1 della Costituzione. La Repubblica è fondata sul lavoro e con questa citazione chiudiamo il collegamento a Piazza Farnese.